I radicali hanno avviato la raccolta firme per sei quesiti referendari riguardanti l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, il divorzio breve, l'otto per mille, l'immigrazione, il lavoro, gli stupefacenti. A giorni partirà la campagna per altri sei referendum sulla giustizia. E sempre i radicali proseguono la raccolta di firme per la proposta di legge sull'eutanasia. 3.560 le firme raccolte a Trieste, fra esse anche quella del primo cittadino Cosolini.